Musica Sto andando verso la missione della spada, missione secondaria Iniziamo a fare questa, poi mano a mano facciamo anche le altre E' un po' che sfide ci propongono, anziché sfida Entra in terreni di addestramento, giustizia e mischia gli Uruk Quindi è semplicemente un combattimento Giustizia e mischia, quindi forse devo usare colpi di grazia Vediamo, ha uccidito tutte le recrute Vabbè, iniziamo Vediamo se è quello che chiede Sì, 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 sì Ok Vabbè, hanno suonato il corno, va bene Ah, quello ha cercato di attaccare durante l'animazione, ma sono immune Sì, sì, sono piccoli trucchi Bene, stiamo andando incadibilmente bene Qua ho tutte le recrute, ma buh, quelli sono le recrute Non si capisce molto Questo casino Boh, io uccido tutti Facciamo prima Ok Con un po' mi colpiva e mi interrompeva la serie Io non ho dimenticato che avevo anche sto colpo Bene, li ho intontiti tutti Ok, è l'ultimo Così è l'obiettivo bonus che abbiamo fatto Perfetto Vai, ancora Così tutti intontiti Oh, quello era un informatore Vabbè In questo momento non me ne frega niente Voglio solo ucciderli tutti e basta Mi ha colpito uno con la lancia Ecco Stad mi fa interrompere la serie di uccisioni Ucciderlo subito Eh, però qua mi sa che non vorrei arrivassero all'infinito L'infinito magari no Però, boh, vediamo Noi andiamo avanti Uy, ho spaccato lo scudo Fallibile Più che sentire un odore Tu senti un casino Continua ad arrivare Incredibile No, perché qua Ah, se no è infinito Aspetta Facciamo così Ecco Allora, l'ha preso Ma quali sono le recute? Non c'è qualcosa Un falò Così li uccidiamo tutti in un colpo solo Uffa Allora, l'ha preso piano Allora, l'ha preso piano Allora, l'ha preso di arrivare Ah, io poi sto morendo Ecco, dopo un po' Non ce la faccio neanche più Scusate, ma Possibile Aspetta Andiamo su Opla Questo lo uccidiamo così Ok, a parte che ho un'abilità da sbloccare Ha due punti abilità Ok, allora li sbloccheremo subito Dunque Vediamo un attimo la terza striscia No, questa è la cosa della spallata No, non mi interessa Ah, questo potrebbe essere interessante La missione dell'età è il colpo d'ombra La prendiamo Colpo di grazia spettrale Le vittime di presciugamento e uccisione da tubi Ne esploderanno Ok No, magari l'uccisione Quella che creava terrore Tipo Uccisione furtiva spaventosa Tenere premuto Boh Prendiamo questa Non saprei Ah, ah Oppure questa Scavalca e stortisci Forse è meglio questa Ecco Così almeno Stordiamo I nemici che scavalchiamo Quindi adesso abbiamo Il colpo d'ombra letale Giusto? No Eh Ecco Però adesso li stordiamo Sì ma io uccidio tutte le reclute Ma qua continuano ad arrivare Cioè voglio dire Eh Ci sarà anche un limite Dicono Eh vabbè Aspetta, aspetta Ok No, no, no Sì vabbè però Un po' basta Non ce la faccio più Non c'è un Falò Un qualcosa Aspetta Perché così comunque Fagliamo la missione Non va bene Non va assolutamente bene Aia Uh qua Qua c'è un falò Perfetto Allora tutti qua Tutti qua ragazzi Venite qua Bravi Più vicini Più vicini Tutti 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 Ok No No Ma edizione Eh Ah Ok Aspetta Permesso Permesso Scusate Permesso Permesso Ecco Oh Eh beh Ci voleva Ci voleva Ok Madonna È stata dura È stata dura Porca vacca Oh È la prima missione L'abbiamo fatta Dunque Adesso Io andrei a fare Quest'altra Quella dell'arco Sì Viaggiamo Velocemente Allora L'assegno Sulla Sulla mappa L'assegno Perfetto Di qua Ok Quando arrivano Quasi all'infinito Mamma mia Dopo un po' Non reggo più Vabbè Ma è normale Credo di aver sentito Qualcosa Ok Vediamo Cosa ci viene chiesto Di fare Spare Baie esplosivi E i fuochi Da campo Per farli saltare In aria Dai fuoco Agli Uruk Ok Uccidi Le guardie Uruk Senza entrare A Durtang Cioè dentro qua Ma scusa Come faccio Non lo vedo mica Il fuoco No Eh no Sì L'ar è qua Eh sì Sì Ma come faccio Oh Aspetta Scusate Vediamo Cambiamo zona Un attimo Un pochettino Ah ok Un obiettivo bonus Dare fuoco Agli Uruk Eh però Vorrei farlo Ma non vedo fuochi A parte Qua Boh vabbè Iniziamo a uccidere Qualcuno Ok Qua c'è uno Non so se è lui L'obiettivo Ma Uccidiamo comunque Ecco Poi Qua Ok Ci arriviamo Sì Perfetto Perfetto Poi Guarda Guarda La testolina Che sbuca Ok Ecco L'altro Perfetto Concentrazione Però È a zero Praticamente Vediamo Se riesco Perfetto Preso Ah Dovei avere Tipo qua Un fuoco Ma non c'è Non ce l'ho No Non Poi Vediamo Là c'è uno Ecco Perfetto Sì sì No Sto dentro Sto dentro Poi Qui davanti Ci sono altri Due Da prendere Uno E Due Perfetto Ne mancano Tre Sì sì Beh a sto punto La strada del fuoco Direi che è opzionale Visto che Non saprei come No Non ho più Ah no Ok Perfetto Ne mancano due Vediamo Là c'è Uno Anche qua c'è uno Ma non lo vedo C'è il muro davanti E anche qua Dove Quindi Prendere Aspetta Più lontano Dove posso Arrivare Ecco Là c'è Uno Là in alto Eh ma Non riesco Non lo Non lo vedo Bene Ecco Forse Adesso Che si è No Maedizione Si è Mosso Proprio Sbagliato Ricarichiamoci Le frecce Ok Ancora Ok Vediamo se fosse da qua Si vai Lo prendo da qua Perfetto Ne manca uno Ne manca uno Posso sparare Le torce Succede qualcosa No Infatti Solo i fuochi da campo E i barili Ovviamente Ah ma forse i barili Sanno quelli del grog Io mi aspettavo tipo Barili esplosivi Beh ormai è tardi Eh ma non riesco a vedere Nessun altro Aspettaci uno lì Si sta muovendo Eccolo Perfetto Si pazienza L'obiettivo Bonus Ok Ok Allora Adesso Facciamoci questa missione Un'altra missione Della spada Vediamo un po' Se anche qua Bisogna combattere Ma è probabile Ma è probabile Di sì Vediamo Eeeh Eeeh Occhio Il ramingo Ins- Ok Vediamo Eeeh Sgombra le tane dei ghoul Uccidi 10 ghoul Con un singolo lampo spettrale Ok Qua ci abbiamo a che fare Con i ghoul Va bene Via Alla carica Almeno muoiono Con un colpo solo Poi si Vai Fatto Perfetto Ho fatto anche l'obiettivo bonus Che è ottimo Ok Beh Sono un po' Cagate Sono proprio Debolucci Qua comunque In massa Per darmi dei problemi Efectivamente Poi sputano sta roba Ancora uno No Dai Stavo per fare il lampo spettrale Mi sta sotto colpito prima E basta Sputano sta roba Oh schifo Che schifo Qua ce n'è uno Aspetta Ce n'è uno E muore Ah Ok Poi qua Ah la carica La carica Ma guarda Quel bastardo Lì in fondo Ah Uccida Matriarcha Ghoul Ah Qua ci abbiamo anche Una specie di boss Matriarche Ghoul Le matriarche Ghoul Sono gli esemplari Più impegnativi Della loro specie Ragiano i tuoi attacchi Quindi devi schivare Rapidamente Lo schifo Schivato Vai Non vedo però Aspetta Io direi di ammazzare I suoi figli Prima Aia E poi occuparci Di lei Se non sono infiniti Però i figli Non saprei Aia Posso reagire O mi scannano Ok Posso reagire Meno male Ah però Non l'ho vista arrivare Aspetta Mi tolgo da qua Mi tolgo da qua Ecco Va con chi sono Ok Bastarda Penso che questa Mi ammazza Via No Eh Cazzarola Vediamo Seconda possibilità Sì Posso massacrare Di botte Posso Ah cavolo Fare proprio Per due nanosecondi Non faccio niente Per premere Il pulsante Adesso mi ammazzeranno Infatti Due possibilità Mi danno Aia Va bene Sono morto Basta Riproviamo Ah è vero Che vanno avanti Le cose In questo caso Non Cioè Nessuno Si viene promosso Perché mi ha ucciso In questo caso Va bene I conflitti in corso Vengono risolti Ok Promosso capitano Promosso E però adesso Non vorrei Diciamo Ottengano I comandanti Nuove guardie del corpo Ma è probabile Vorrei dire Una cagata Vediamo No Ok Meno male Va bene Non tutto è andato Perduto Cosa sono Queste torri Argentate D'accordo Oltre me lo chiede Aspetta Scusate Eh qua Qua Io voglio fare Sta missione Quando ogni altra Luce si spegne Palli di riflessi Della luce Dei due alberi E testimonianze Di un regno Per tutto Dove cambiare Strategia Iniziamo ad avviare Inizio non è difficile Fattibile Tranquillamente Ok All'inizio Li uccidiamo Così Tanto sono delle merdine Questi Anche se Diciamo Mi colpiscono Comunque Non interrompono La mia serie Quindi Ok Ecco Sì qua Quando sputano Però Stanno schifo Veramente schifo Ah Guardalo Qualcun altro? No Abbiamo uccisi tutti Benissimo Manca questo Gruppo Perfetto E adesso arriva La cara Matriarca Mi ha romputo Il pozzone No Basta sputare Aspetti 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 Siamo così Ti affera Un attimo Se io vado Eh la colpisco così Noccio Non ho fatto niente Però Oh Scusa eh Colpomba Letale Eh Non lo è No No Starda Aspetta No Non mi sputare Così Qua c'è Un fungo Aspetta Cerco vita Cerco vita Facciamo Facciamo Eh Quanti Non c'era più nessuno Ok Aspetta Qua c'è qualcosa Se sono Sto gli esseri Un attimo Qua Qua Vai Vai Ho recuperato vita Sì Ce l'ho fatta Aspetta Via Via Adesso Ci caga Matriarca Non vedo Eccola Riproviamo Perfetto Oppa Altri due Vai Ok Così Togliamo Un po' Di vita Che colpo Devo fare Forse L'altro Attacco Aspetta Vai Quasi Morta Vai Vai Che è morta Dai No Bastarda Morta Ok Madonna Addio Se troppi Bastarda Basta Oh Quanti sono No No Aspetta Aspetta Oh Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sette Otto Vai Oh Basta Vero Scusate No Non più Proiettili No 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 Via Via Usciamo Ma che cavolo Via Fuori Ok Ce l'abbiamo fatta Madonna Faticoso Eh Qua però Forse c'è un'erba Che mi serve Forse Ecco No Bull Basta Non voglio più Saperne di voi Perfetto Adesso Altra missione Secondaria Eh Faremo questa qua Anche del pugnale Sì No Queste qua Di salvare I reienti Ovviamente Non ve le farò più Vedere Visto che sono Tutte uguali A quanto ho capito Ce ne sono due Magari le farò Io Off screen Ecco Andiamo qua Questa qua Del pugnale Che non mi ricordo Se Poi Avendole fatte Tutte Queste Missione secondaria Appunto Poi riceviamo O il pugnale Diciamo Potente La spada più potente L'arco più potente Non mi ricordo Però mi pare Che fosse così Vorrei dire Una cagata Stato E' cogiattante Quindi Problema Apriamo i proiettili Ecco No no Bisogna piccarsi Non ci incastriamo Ok No La missione Qua Andiamo però Vabbè Questo dà l'allarme Ok Oh Non so se poi Ste roccaforti Possono essere Prese O Boh Non mi ricordo C'è qualcuno Che si nasconde Uccidi gli uroquimenti Indagano Sulla tua posizione Attrai Evita di essere Scoperto Aspetta eh Urca Urca Pensavo fosse un reietto Vediamo Se riesco Ecco Ho tirato L'ho tirato L'ho tirato Dai Più vicino Oh Ok Perfetto Quello a posto Ah ne arriva un altro Ne arriva un altro Aspetta Oh Non mi piace Questo rumore Eh Più vicino Ok Eeeh Due Va Tiriamo anche Quell'altro Ho sentito Che se mangi La roba grigia Nella testa Degli schiavi Diventi più forte Ho sentito dire Che se mangi Solo la carne Delle gambe Corri più veloce Cos'è stato Ecco Avvicinati qua Così ti attraggo Di qua Sono qui Perfetto Mancano due Che che m'ha visto Ah Quello là in alto Ha sentito Che presto Arriveranno Altri guerrieri Perfetto Ci manca Mante questa Altri vermi Che ci rubano Il gravo Perfetto Quattro E ne manca Uno Sblocca abilità Oh abbiamo Un'altra abilità A sbloccare Eeeh Ecco Quasi quasi Prendo questo Colpo di grazia L'ultima opportunità La capacità di sfruttare Un colpo di grazia In una lotta L'ultima opportunità Così meno Lo uccidiamo All'istante Chi Cerca di finirci Ok Qua ci Andiamo dall'arciere Magari Con lui riesco No qua c'è uno Ma dov'è Forse Ah è giù È giù È giù Aspetta Come posso Come posso Andare giù Ok Piesco a mirarlo No Sì 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 Aspetta Ok Adesso si avvicina Lo trago meglio Ecco Perfetto Missione Completata Ok Direi che poi Proseguiremo Con le prossime Missioni Perfetto 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 Perfetto